Buona domenica, ben ritrovati anche su Paviliono TV e Lombardia Live 24 a un minuto di vino, grazie anche per l'affetto con cui mi seguite sul blog 45esimoparallelo.net. Vi parlo oggi di una manifestazione veramente importante, la quarta edizione di Oltre Po, terra di Pino Nero, che si prepara per il 30 settembre a Tenuta Pegazzera, nel cuore dell'Oltre Po Pavese. Un messaggio importante legato a un vitigno più internazionale, il Pino Nero, che dà nella sua versione metodo classico di OCG e nella sua versione in rosso grande identità all'alta gamma che l'Oltre Po Pavese può esprimere. Un evento per la regia del consorzio su Terravini e Oltre Po Pavese, presieduto da Francesca Serralbo, diretto da Riccardo Binda, un evento nel quale credono molto anche il gruppo Terravini e Oltre Po, la Versa, tanti produttori di grande prestigio che daranno appuntamento a giornalisti, wine lover e anche e soprattutto tanti operatori per raccontare un'eccellenza. È iniziato il conto alla rovescia in vista della quarta edizione, un evento che celebra un'identità. Il 30 settembre, in questa splendida tenuta del 1700, tenuta a Pegazzera, un evento per celebrare la doppia anima del Pino Nero dell'Oltre Po, un percorso sensoriale di scoperte e approfondimento sotto la guida di comunicatori del vino preparati ed esperti, riconosciuti a livello internazionale, un walk-around tasting nell'arco dell'intera giornata per degustare le eccellenze proposte dalle aziende, due masterclass pensate dai produttori e dedicate ai giornalisti della stampa specializzata e agli operatori enologici per accendere i riflettori su queste due tipologie di Pino Nero e far conoscere un terroir unico in cui questo vitigno riesce a esprimersi con tanta versatilità e superiorità. Un incontro all'antica tenuta Pegazzera di Casteggio, una location prestigiosa che apre una porta per entrare alla scoperta della bellezza delle colline dell'Oltre Po e delle sue specialità comprese anche quelle gastronomiche. Un appuntamento da non perdere, per saperne di più, terradipinonero.it, sito dedicato all'appuntamento, è un appuntamento da non perdere perché quando si celebrano l'alta qualità, lo stile e l'alta gamma si va nella direzione giusta anche per far riscoprire il valore, il talento non solo enologico di una terra vocata come l'Oltrepo Pavese, vocata a livello internazionale. Grazie per la visione!